Hola gamers e benvenuti in un nuovo video, io sono Andy Gamer e oggi siamo di nuovo su Brawl Stars come sempre Allora, oggi foco, beh, senza che lo sto a dire, faremo come sempre una partita però voglio provare a usare Bull stavolta Vediamo che cosa riesco a fare È vero che ho tolto l'alber, vabbè, almeno sentite la mia voce Lo sempre farei tutto io Ecco Ci siamo uccisi avicen... no Mi ha ucciso... allora, ho ucciso il Bull ma mi ha ucciso la rosa Non sbaglio... ma ci penso io So come pare Vabbè, ci ho provato... ma comunque... in seconda posizione è meglio che niente Fertimi un attimo, vorrei attivare almeno il Ferti Sonoro perché non si sente davvero niente Anche il primo sarebbe andato meglio... cioè... sarebbe andato meglio però... Che sconfitta... dovrebbe... rimarazzare... proviamo a usare Colt invece... Time for trouble Too pretty for pain Time for trouble Time for trouble Time for trouble e questi ci possono fare decisamente non il panino, ci fanno una pizza guarda che scappa ma attaccami e c'è il power up ah ah eh si a 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 di rosa grazie a supercell nooo questo video può finire qua e noi ci vediamo alla prossima arrivederci